Il film Bene, riaccoci, speciale cinema! Cos'è? Lo chiamavano il preparatori Preparatori? Cos'è? Era il miglior allenatore sulla piazza Ah! Aveva fiuto da vendere Ah, davvero? Ma qualcosa stava per cambiare Cioè? Che cosa? Ehi, ragazzo, cosa ti prende? C'ho la rabbia! Ti va di mettere questa fottuta rabbia sotto contratto Ah! Ha trovato un nuovo talento? Bappo! Tu sei il pugile! Il pugile? Il pugile! Cosa? E' l'uomo che cercava Ah! Tu devi percorrere la tua strada Ma la mia strada è il baretto Sarà la bocca Ora in poi il ring sarà il tuo unico baretto Ce la farà? Sì, bene, il ring ha fatto Ce la fa, ce la fa! Il pugilismo, ragazzo! E' un mondo di dolore Non si chiama pugilismo Ma tu hai la stoffa, ragazzo! Ma io sono scemo! Questa è piena roba forno Bappo! Sarà! Bappo! Arriverà il tuo momento! Si allena, Bappo, eh! Ehi! Insomma... Occidente! Stupito da un talento nascosto Sì! Ma nascosto bene Eh, fai! E diventa un grande Bappo non sei buono a nulla! Io sono Pugile! Ma cosa? La mamma? Ma che film è? Io non alleno femminucce No? E dai, c'ha Pappo Non sembrava una femminucce Eh, c'è Pappo E' il TV Lui è Bappo Eh, sì Ma questo è Pugile! Eh, mi sembra! Sta a vedere, Don La scoperta di una nuova tecnica di pugilazione Cioè? Ma è un'arma segreta, Don Cos'è? Il pugno di lato! Il pugno di lato! Ma non si è mai vista roba qui! Cosa? Bappo è fortissimo Ma... Concedimi un incontro Uno solo Con chi vuoi E te lo dimostrerò, Don Ce la farà? Sì! Dall'anomalo romanzo di Omer Giugianci Cosa sei? Sono Pugile! Non ho sentito! Cosa sei? Sono Pugile! Ce la farà? Dai! Rupert Sciamena Hai di riccura? La giocapatonda Sì? Con la famosa partecipazione di Gino Scritto così? Inizio l'incontro Vediamo chi vince Vai, Pappo Aia! Ma sei scemo! Come? Ma sei scemo? Ma cosa? Ma che figlio? Non sapeva che poteva prendere pugni Ma non è possibile Ma cos'è? Hai fatto male!